Ciao a tutti, sono Mario Ferraris e sono cliente Ingoldex. Adesso con l'aiuto di Gino Ferruzzaro andiamo a spiegare nello specifico Ingoldex che cos'è. Ciao a tutti, quando uno è cliente di Ingoldex, uno ha due scelte per acquistare oro, hai l'opportunità di acquistare oro, il quale la compagnia Ingoldex ti dà la possibilità di farlo di due maniere. La prima cosa Ingoldex quando tu sei cliente ti apre una fattura, una fattura la quale dice che tu stai acquistando oro per il valore di 7.000 euro, ma come tu puoi pagare questi 7.000 euro? Puoi fare di due forme diverse, la prima o facendo un pago in contanti del valore della fattura totale che sono 7.000 euro o facendo nel programma di marketing un acconto di soltanto 540 euro, il quale tu Ingoldex ti riconosce tutto il valore e lo che resta della fattura in maniera di bonus per portare nuovi clienti a Ingoldex a acquistare oro. Grazie a Gino e un saluto a tutti. Become a client now in your country. Ingoldex. Gold.